Quindi ringraziamo tanto il comitato organizzatore per averci accolto e invitato nonché il nostro agente teatrale, il signor Benito Viola. Siamo un gruppo folklorico. E come tale questa sera faremo un viaggio indietro nel tempo. C'è il cammino, ti metti all'acqua, ti lavavi, e il lume cori, sì, nel che è un amore. Penso all'infatti, allora si fa l'antravi, e io ti arroppo ai lume, io maccatori. Calatrisetta mia, oh i lì, oh i lì. Calatrisetta mia, oh i lì, oh i lì. Sì, sì. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.